Un passaggio importante è quello della sentenza di qualche giorno fa che riconosce il risarcimento ai familiari delle vittime del sisma e che apre uno spaccato significativo perché non solo ai familiari, ora arrivano i maxi risarcimenti anche a chi si è salvato ma è rimasto ferito. Nella sentenza del giudice Baldovino De Sensi che ha riunito una rientrina di cause civili è stata accolta anche la domanda di tre donne rimaste ferite. A pagare sarà la presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà tirar fuori ben 9 milioni di euro per i familiari di 28 vittime per le tre donne. Il giudice ha dimostrato infatti il collegamento tra le morti e ferimenti e le parole rassicuranti dell'allora vice capo della protezione civile Bernardo De Bernardinis pronunciate durante la Grandi Rischi. Il giudice ha segnato a una donna che allora aveva 43 anni e rimasta ferita 445 mila euro oltre a risarcimento per la morte dei congiunti. Lei che quella notte ha perso figli e marito, una cifra che mai in effetti potrà risarcire quello che ha perso, ma la sentenza è comunque un simbolo, risarcite anche altre due donne. In relazione a questa sentenza l'avvocato Vagna della Vigna che si è occupata di molti procedimenti, ebbe come apripista con la famosa e contestatissima giudice Croci diverse sentenze che riconobbero il danno biologico per i sopravvissuti della casa dello studente, con cifre attorno ai 250 mila euro, ma solo per danno psichico da sindrome post-traumatica da stress. I ragazzi per fortuna non avevano riportato danni fisici. Per la della Vigna le cause post-crollo sono ormai in corte d'appello e dentro il 2023 ci saranno le varie sentenze, sia per il crollo della casa dello studente che per via Campodifosse e altre zone della città, sia per i sopravvissuti che per i familiari delle vittime. Il giudice De Sensi in questo caso dovrà mettere sentenza, a brevissimo giro, anche per le ultime quattro posizioni di assistiti dell'avvocato Terramano, ragazzi sopravvissuti al crollo della casa dello studente.